Namaste, io sono Ace the Brave e bentornato in un altro episodio di Papers Please, in mia compagnia abbiamo la delatrice di Antegria che a quanto pare si sono già perse le tracce E audace attacco al presidio di Grestin, estremisti sempre più intraprendenti, Grestin è una calamita, abbiamo avuto sventato l'attacco del motociclista ieri Che è stata abbastanza dura perché ho sparato un po' a casaccio prima di beccarlo, ma alla fine l'ho beccato Questo lo mettiamo qua, c'è un piccolo pericolo, ho combattuto in collecchia 5 anni, intanto abbiamo il nostro orologio, questo lo mettiamo di qua, norme base Comunque fai un buon lavoro, continua così, ottimo grazie, iniziamo pure la giornata di oggi e vediamo cosa ci tocca fare Documenti, allora, Great Rapid, vista perfetta, 62 kg, 65 kg, quindi possiamo già mandarti via Signor Groff Nicholas, quindi ciao, ciao e ciao E avanti un altro, questo lo spostiamo leggermente Documenti Intendo lavorare Resto qui finché non muoio Se non muori tra 6 mesi Ecco Cambia, i documenti corrispondono, bla bla bla, Glorian va bene, pizzetto, ce l'hai, 76 kg, 1,81 m, per me puoi andare Quindi vai, vai, vai e vai Non creare problemi, come sempre E vediamo un po' Tu sei uno di Arstotzka, di Paradizna, ciao, di nuovo ricordi? Forza Aquilotti, sì Lo arrivo indietro? Ora è molto arrabbiato, se non recupero sto tanto toglie bonus di squadra Allora, intanto vai bene, Asse Filipe Tieni pure lo standard, tieni anche i 10, non mi interessano Qui c'è strappo, cosa hai fatto? Niente Grazie amico, prego Ricorda di tifare noi il campionato regionale Ok Avanti un altro, vediamo un po' cosa ci capita Tu sei di Glorian, visita parenti Un paio di settimane va bene Questo va bene, non è scaduto, questo va bene Stefan Plakov Capelli e spazzolo, 82 kg, 1,58 m Dobbiamo vederlo No, bisogna fare così Perché in realtà potrebbe essere la variazione naturale giustificata ma non lo è Perché in realtà non sei proprio tu Ok, avanti un altro Ho fatto troppo veloce forse Sì, ho fatto troppo veloce e il motivo non è venuto indicato Vabbè 30 giorni in visita Sì I numeri corrispondono, il nome corrisponde Sì Ellen Zanovna Ok, capelli scuri, 58 kg, 1,68 m Sì Quindi per me puoi passare Vera Glorian Non creare problemi E avanti un altro Oh, ciao Giorgi Bentornato Segnala ancora che sei Sì Segnala ancora che sei ciccione Però ti faccio passare lo stesso Perché sei un mio amico Vai Giorgi Passa pure Viva la legalizzazione E avanti un altro Prenderò sì la citazione Bla 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 Possibile Peso non conforme Possibile contrabandiere Viva e viva Gresti Nest Tu sei di Genistora Nathan Larkovski 14.2 92 kg 2 metri Sei alto 2 metri Eh, infatti non sei tu Facciamo così E facciamo così Gna Ok, ce l'abbiamo fatta E avanti un altro Siamo già all'ottavo Quindi se dovessero esserci Altri attacchi terroristici Adesso arrivano Eh, Gresti Nest Avevo clorologio Vendi a me No, non mi interessa Vendertelo Non è tuo Eh, 88 kg Tutto il resto va bene No, non mi interessa Non è tuo Ok, vediamo chi arriva adesso Una collecchiana Mi trasferisco qua Eh, questo va bene Daniv Kef Ok Migrazione va bene Capelli ricci corti Più o meno Si Eh, ti scade domani Questa cosa tra l'altro 60 kg 1,73 m Va bene Quindi per me Puoi passare Non creare problemi E avanti un altro Vediamo chi arriva Eh, Zucchi Nido Il passaporto è scaduto Andiamoti via direttamente Avanti un altro Forza, forza, forza Dai che ce la facciamo Eh, tu sei da Corista City Il passaporto va bene Sei in visita Eh, un paio di mesi Va bene Questo va bene Il nome corrisponde Jan Kubelka Questo va bene Calvo 83 kg 1,79 m Va bene Per me puoi passare Avanti un altro Ho un signore bello alto Che viene da Vedor Eh, transito in paese Un paio di settimane Sì Il nome corrisponde Sì Questo va bene Sì Barba 86 kg Qua c'è scritto 90 Quindi non va bene Quindi Andiamo di fare il rifiuto E anche dargli la motivazione Quindi tieni Tieni E tieni Avanti un altro Andiamo A che punto arriviamo Tu sei una di import Tu sei una di import Da Enchio Non credo Tu sia un maschietto Allora Sei tu Per quanto riguarda le impronte Dobbiamo vedere se sei un maschio Sì sei un maschio Sì sei un maschio Ok Buono sapersi Quindi tieni e tieni Nella prima volta che tra l'altro faccio sia impronte che foto Non capita così spesso Pesca Yurkosity Vengo 12 settimane E hai scritto lavoro? Sì Nathalie Sindal Questo va bene Sovrappeso 80 kg 1,97 Usciresti dallo schermo Ok Ok a quanto pare sei tu E cosa hai ancora che ti posso dare questo? Ok Vediamo di fare uno degli ultimi Forse l'ultimo Dipende dal tempo che ci richiederà Corrista City Arstotzka FFU Carlo Castrenius Dovrebbe tornare tutto Quindi ti faccio passare tranquillamente E quindi possiamo farne ancora uno Cosa è che ho sbagliato? Autorizzazione diplomatica contraffata Ah c'era qualcosa nel simbolo Lesneradi Transito Due giorni Sì Corrisponde Rivera Natascia Capelli lesi 52 kg 1,67 Per me Tu puoi passare Quindi Tieni questo Tieni questo E tieni questo Questa ce la teniamo Abbiamo finito un'altra giornata Ah con un monumento Permesso Contraffatto Tanti contraffatti Ed è una cosa che succede quando superate più o meno le 10 persone Credo le 9-10 persone insomma Tuo figlio ha bisogno di medicine Un altro giorno Tuo nipote ha portato i risparmi della madre Abbiamo 100% di risparmi della madre che possiamo utilizzare per questo ma non li utilizzeremo Perché voglio rimanere in un appartamento schifoso E scaldamento E facciamo anche il giorno 23 Ritorna la polio nelle federazioni unite Soltanto un caso isolato? Quindi comincia ad avviarsi anche la procedura della polio pian piano Ci vorrà ancora un po' di tempo in realtà per attivarla E abbiamo l'omino in rosso Oggi è la giornata dell'omino in rosso Particolare perché Qui succedono un macello di finali diversi E ve li spiego un po' Allora intanto arriverà un soldato della EZIC Un agente della EZIC A darci l'altra chiavetta Per poter attivare il fucile di precisione anziché il sedativo E i finali sono Usare il fucile per uccidere Una persona a caso Per uccidere E quindi anche l'uomo in rosso in realtà Per uccidere un soldato E sono già due Per tranquillizzare una persona a caso Per tranquillizzare un soldato E sono già quattro finali diversi Quindi sono già quattro finali diversi E ci sarà un attacco terroristico Se usiamo il sedativo va bene Se invece usiamo il fucile di precisione e lo uccidiamo Veniamo arrestati Quindi ci sono cinque finali possibili Che avvengono in questa giornata Non ve ne mostro neanche uno in realtà Perché voglio mandare avanti la cosa Però cercheremo di seguire le istruzioni di EZIC Finché possiamo In realtà se usiamo il sedativo su questo Non possiamo fare nulla Vi mostro solo cosa succede se seguiamo la lettera La EZIC Ecco questo mi piacerebbe mostrarvelo Quindi questa giornata Ce la prendiamo comoda E la facciamo due volte in realtà Facciamo una prima volta E una prima volta in cui faremo game over In realtà faremo un finale Ma serve anche per sbloccare un achievement Insomma Ok Tu vieni da Ayan Sei di passaggio Che vuol dire transito Due giorni va bene I numeri corrispondono Alexi va bene Gli occhiali Eh c'è scritto occhiali Se non hai gli occhiali Almeno le lenti a contatto Ma a quanto pare porta le lenti a contatto Questa persona Quindi approva Tieni Tieni E tieni Tieni Avanti un altro Ok Ecco l'agente della EZIC Come vi ho detto E dice Khaled liquidato Altro killer in arrivo Uomo in rosso Ha informazioni su tutti gli EZIC di Arstotzka Non corri rischi Devi ucciderlo oggi Forniremo l'occasione Se riesci Verrai catturato Immolati per Arstotzka La famiglia sarà al sicuro Spara a vista E ci dà la chiavetta appunto Speciale Vedremo di attivarla Probabilmente si attiverà l'ottavo entrante Adesso vedremo Se è così o meno Il passaporto scade l'anno prossimo 46 kg 1,69 m Le date di nascita corrispondono Kogel Denise Per me puoi andare Tieni Tieni Avanti un altro Siamo a 4 Tu sei di Vedor Sei in transito Rimango un paio di giorni Va bene Friedir Soin Va bene Transito Bla 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 Capelli scuri 87 kg 1,77 m Questo è scaduto Quindi mandiamolo pure via Col motivo del rifiuto E tieni pure Arriva il prossimo Il quinto Della giornata Documenti Ricerca di lavoro Durata del soggiorno Vengo due mesi Sì Quell'orologio Muiku Diceva Conto importante per famiglia Ah ok C'è 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 Il personaggio In fila Buon affare che offro te No Non mi interessa Non creare problemi Quindi a quanto pare Dobbiamo restituire L'orologio oggi Anche Vediamo se arriva Sei tu? Sì eccolo qua È ritornato Certo che è il tuo orologio Tieni E vai anche bene Qui c'è Graffio Ridami i soldi Sì che ti ridò i soldi Va bene Top Potrei anche arrestarlo In realtà Graffio c'era prima Ecco E mi ridai i soldi Grazie Quindi essere onesti Vale Grazie Forse gente Arstotzka non è tanto male E mi dà il simboletto Di Republia Il token di Republia Ottimo Settimo entrante Dalla Colecchia Gresti in Ovest Il simbolo va bene Qua c'è scritto Arstotzka Il numero è giusto Quindi ti faccio passare Sì Spero non sia contraffatto In nessuna maniera E adesso abbiamo L'ottava entrante Quindi stiamo pronti Eventualmente con la chiave Arriviamo Abbiamo un Pavel Nedved Tu sei Hai il documento Stra Mega Uh uh Arriva Come vedete Arriva Io faccio così Prendo il fucile E sparo All'uomo in rosso E posso sparare anche lui Se voglio Cosa succede Intanto abbiamo Hired File Come Rifle Scusate Come Achievement Sbloccato Sei in arresto Per l'omicidio Di un innocente La pena E la morte La tua famiglia Verrà interrogata Riguardo Un eventuale Convolgimento Il confine Rimarrà aperto Sotto Un nuovo ispettore Gloria D'Arstotzka Un biglietto Spunta sotto La porta Della cella Tra l'altro Qua c'è scritto Probabilmente Qualcosa Di particolare Perché c'è scritto At vero Mom Se c'è qualcuno Che riesce A leggere Qualcosa Probabilmente Questo è Un easter egg Gigantesco Nel senso che Parla E' scritto In In latino In teoria Comunque Ispettore Famiglia Sicuro Bersaglio Eliminato Nuovi problemi Nuovo ispettore Non collabora Attività Ezic Ostacolate Non possiamo dare Altro aiuto Ezic Tornerà Dormiente Famiglia Verrà portata In Nobristan Buona fortuna Quindi a quanto pare La mia famiglia È salva E andate In Nobristan E E questo è Il finale Numero 9 Dei 3, 4, 5 Finali Che ci sono All'interno di questo Sono tipo Il 7, l'8, il 9 Il 10 e l'11 Una cosa del genere Comunque torniamo al menu principale Riprendiamo da questa Da questa giornata Che appunto era questa E Perchè Perchè Ok Parte il primo Glorian Vengo per lavoro Resta un anno Ti manca l'identificativo Caschetto 55 Ecco perchè Non mi volevi darmelo Tieni 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 E tieni E avanti Un altro Questo dovrebbe essere La gente Della EZIC Che ci da la seconda chiavetta Che però Non andremo ad utilizzare Si bellissimo Però Oggi Spara a vista Oggi Non sparerò a vista Quindi lasciamo lì Quella chiavetta E seguiremo la legge Perchè se no Facciamo game over in continuazione Siamo per la rivoluzione Ma non siamo così cattivi Immigrazione Questo però è scaduto Tieni Tieni Ok Avanti un altro Documenti Abbiamo Si che ce l'hai Pensavo di dovertela chiedere Non assomigli Granché a sta foto Per il resto Andava bene Quindi l'ho approvata Poi vediamo Di disapprovarla Eventualmente Si Quindi vediamo Di mandarla via Tieni Tieni E via Quindi è l'ottavo Entrante Non manca tanto Ancora A te manca Il permesso Quante dimenticanze Che avete ragazzi Uomo in fila Dietro di me Parlava di continuo Diceva quanto è importante Per famiglia Guarda È buon orologio Io vedo Do 20 crediti Per quello Subito Dice che paga a te Indietro solo 10 crediti Buon affare Non hai permesso Entrata Cos'è Ciao Buona giornata Ma non mi interessa E adesso possiamo Restituire L'orologio Direttamente Alla personcina Eccolo qua Tieni pure L'orologio Tieni I tuoi documenti Sono sicuro Che siano a posto Quindi C'è un graffio Tieni Sai Non posso accettare In realtà Graffio c'era anche prima Grazie Tieni indietro Tieni E tieni Grazie Forse gente Della Stosca Non è tanto male E mi ridà Il simbolletto Di Repubblica Ottimo Abbiamo La settima Persona Che entra Che Ha il documento Stra mega Sbagliato Quindi andiamo Sotto Il foglio Di lavoro No Non è sbagliato Ok Quello di prima Era sbagliato Ma questo no E quanto pare Hai tutto in regola Vediamo subito Ricerca Hai detto per lavoro Resto un mese Si I numeri corrispondono Il nome corrisponde Capelli lunghi 50 kg 1,70 m Si No Ti è scaduto No Non ti è scaduto Ottimo Puoi passare E adesso Stiamo pure pronti Perché tanto sappiamo Che arriverà adesso Il La personcina Stiamo pronti con Questo Non mi interessa Questa persona qua Sappiamo che arriverà Tra poco La persona che corre E fa qualcosa Eccolo la Ti vedo E ti colpisco E come vedete L'uomo in rosso Ancora la Se ne sta anche Abbastanza fermo Quindi in realtà Ho tutto il tempo Di Con calma Di prenderlo E sparargli Abbiamo un altro Simboletto Con noi Il primo simboletto Credo di averlo mancato Il primo distintivo Non mi ricordo Esattamente Come si fa Ad averlo Ma andremo avanti E cercheremo di averlo ancora Qua togliamo il cibo Giornata interrotta Per attacco terroristico E vediamo la giornata 24 Questa volta Il muro leggerà Crescono i dubbi Sulla tenuta del confine 16 dicembre 1982 Vediamo se vengono Gli agenti della EZI A lamentarsi Del fatto Che non ho compiuto Un loro gesto In realtà Bisogna Non colpirlo Perché Compierlo Quel gesto Perché Perché Sennò il gioco Non va avanti Diversi cittadini Alla Stotka Nel distritto di Altan Sono sospettati Per alcuni eventi recenti Il ministero di informazione Ha richiesto La nostra colorazione La guardiola È dotata Di un sistema speciale Del cassetto Della confisca I documenti Il regolamento È stato aggiornato Con la confisca relativa Confiscare tutti i passaporti Riguardanti Del distritto di Altan Una volta eseguita La confisca Eventualmente A provare Insomma Abbiamo Giorgi A quanto pare Tra Tra i ricercati E vediamo un po' Di andare avanti Abbiamo la confisca Un punto Vediamo un po' Cosa possiamo fare Tu sei del distritto Di Altan Sì Tutto il resto Va bene Quindi Devo confiscarti Questo E farti passare Grazie È bello tornare a casa Vado in viaggio Mi serve il passaporto È confiscato Cosa vuoi dire Contatta un numero Sul taloncino Per recuperare Puoi restituire a me È richiviato Non posso più restituire Non vado via Senza passaporto E allora Ti devo arrestare Maledetto Libertà di movimento È mio diritto Eh sì Farò Fuori Ah proprio Di cattiveria Va bene Avanti un altro Ok Tu sei qua Per le belle arti Passaporto Non è scaduto Rimani Sei mesi Lavoro Questo va bene Grai Kyle Sovrappeso 69 kg 1,71 Forse quel simboletto Sul permesso di lavoro Non è tanto giusto Però Facciamo di passare Non si dice Permesso contraffatto Ah Criminale ricercato Urca Ho dimenticato quello Vengo a vivere Con mio marito 63 kg Sì 1,81 Non lo sei Mi sono fatto scappare Un ricercato Ok Quanto pare sei tu Quindi ti posso Far entrare Tieni 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 E questo La mettiamo via È arrivato Eccolo Ciao bello Scusa per ieri Ma non potevo Abbiamo perso l'occasione Uomo di rosso vivo Ora Per bersaglio Gli agenti Ezzik In colecchia Dobbiamo rivedere i piani Ok Vediamo se riusciamo A fare qualcosa Corista city Vengo per asilo politico Ok Ma comunque Devo controllarti Quindi Perché vieni Col permesso di un altro Vai via Avanti il prossimo Morale Sirene Sei del distretto Di Altan 72 1,78 Quindi Confischiamoti Il passaporto E Ti facciamo passare Dov'è il mio passaporto? È confiscato Come io viaggio Contatto Il numero Su taloncino E beh Tanta gente Che non assomiglia Qua Vediamo se sei tu Ok Sei tu Quindi ti posso far passare Tieni 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 E avanti un altro Abbiamo il signor Giorgi Io non so Nessun Billettino Criminale Sai che ti dico Giorgi Passa lo stesso So che è rischioso Di aiutare me così Io cerco di ripagare te Eh speriamo Ok Tu sei qua Per le discussioni diplomatiche Arstotzka Colecchia I numeri corrispondono Quindi per me Uh No Ok per me puoi passare Non creare problemi Mi raccomando E andiamo avanti Alexandra Ilia Fardesto 65 kg 1 metro e 73 Gresti Nest Puoi passare E vediamo Chi ci capita ancora Gresti Nest Questi due Li abbiamo fatti Quindi mancherebbe Solo un altro Di passaggio Due settimane Passaggio vuol dire Transito Quindi no Devo cliccare qua Ok Tutto il resto Da va bene Quindi ti posso far passare Tieni Tieni E tieni Non creare problemi Come sempre Chi abbiamo ancora Documenti Boston Vengo a vivere Con mio marito Questo va bene Verlunda 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 Bene Le cose tornano Quindi ti posso far passare Ok Avanti un altro Verlunda Verlinda Tu sei questa E quindi almeno i criminali Possiamo farti arrestare Almeno uno Tanto sono arrivati Tutte e tre Oggi Avanti un altro Quindi questo non ci serve più Colecchia Dov'è il tuo permesso Si che serve Come c'è chiaramente E' scritto In questo font Uno Di altezza Meradina Derina Vedere amici Quindi visita Poche settimane Va bene Un mese 84 Facciamo così Così E Così E avanti un altro Ok Documenti Prego Tu sei di Boston Sei in visita Un paio di mesi Va bene Fronte alta Va bene Un mese 68 Va bene Si Ok Bayan Non credo esista Come località Andiamo ad import Si esatto Esiste Ayan No Bayan E tra l'altro Una cosa che voglio Giusto per Mostrarvi Antegra e Repubblica Sono attaccate E effettivamente Qua abbiamo Repubblica Times O comunque c'è stata Una guerra Tra questi due stati qua E qui Abbiamo un lago Si questo è un lago Che c'è in Obrestan E qua invece abbiamo Arstotzka Che sta sul mare Mentre noi stiamo A Grestin Est Come vedete Grestin Est E Grestin Ovest Perdiamo anche un po' di tempo Tanto Sappiamo benissimo Come Ormai abbiamo abbastanza soldi Anche per prendere un po' di tempo Per fare un po' queste Queste piccole considerazioni Finito anche il giorno 24 Tuo figlio ha bisogno ancora di medicina E l'appartamento di classe è ancora disponibile Vediamo di Tagliare sul Freddo Adesso sul riscaldamento Abbiamo il bonus degli arresti Finalmente Almeno una volta Dormiamo E ci vediamo quindi A dopo domani Con un altro episodio Di Papers Please In mia compagnia Io sono Ace the Brave Namaste And be Brave Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti